Girandazzo, diciamo la verità, non è stata una partita bellissima, però si è stati concreti nel momento in cui bisognava esserlo. Sì, è stata una partita un po' altalenante, perché abbiamo iniziato a entrare con i sestetti, che si gioca di solito, c'era un buon livello fino al secondo set, poi a Belora abbiamo iniziato a fare un po' di cambi, perché è mercolediana la finale, noi abbiamo cercato di tenere il nostro livello standard, alla fine abbiamo portato a casa la vittoria, che era la cosa più importante. Adesso il 7 aprile si torna in campo, sempre contro Ravenna, è vero che giocare là, l'abbiamo già visto durante il regular season, è sempre molto difficile. Cosa è che bisognerà fare per cercare di portare a casa quella qualificazione? Sicuramente giocare bene, giocare bene sarà una partita diversa, perché loro avranno la finale, non avranno più impegni e sicuramente vorranno fare bene. Sarà una partita in cui cercheremo di dare tutto, come sempre, se arriverà la qualificazione sarà una grande gioia per tutti. Randazzo, anche oggi a Pasqua hai avuto la tua nomination MVP, comunque dai una stagione che per ora qua a Padova ti sta dando soddisfazione. Sì, assolutamente, è stata una stagione importante in cui mi sono trovato molto bene, ho cercato di fare il mio massimo, ma la cosa importante è che quando scendi in campo cerchi di dare sempre il massimo, poi se arrivano le MVP, arriva qualsiasi cosa, ben venga, però l'importante è dare sempre il massimo.